In riferimento al nostro servizio sul fallimento del Policlinico sassarese apparso sui TG di ieri 24 gennaio, la Copp Service SRL intende precisare che il credito vantato nei confronti della Clinica di Viale Italia ammonta a 525.933,27 euro. Nel dispositivo del Tribunale di Sassari si rilevava che i debiti superavano i 30.000 euro, non specificando la somma effettiva. Dunque, essendo stata oltrepassata la soglia minima dei 30.000 euro e tenendo conto del passivo di 39 milioni di euro, di un volume di affari ormai minimale stante la revoca degli accreditamenti provvisori e la concessione di un nuovo accreditamento limitato alle sole attività ambulatoriali, i giudici hanno ritenuto che sussistevano i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di fallimento del Policlinico sassarese. Per quanto riguarda i lavoratori ex secco da oltre un mese in Piazza d'Italia, la stessa azienda, la Copp Service, è inoltre precisato che ha assunto i propri dipendenti secondo accordi chiusi con la TS e i sindacati e che il personale impiegato a seguito del cambio di appalto di guardiania corrisponde a quello concordato con le rappresentanze sindacali e che a queste si sono aggiunte altre sei unità. Negli elenchi dell'accordo non rientravano quindi i lavoratori della Secur, accordo sempre secondo la nota della Copp Service, ratificato dalla stessa TS con nota del 7 gennaio di quest'anno.